Hola! Jamin ci ha chiesto di rilevare la telemetria su tutti i piloti acrobatici di Corsa Horizon e dice che tu sei il meglio del meglio. Lo dice solo per motivi promozionali. Allora, useremo la scienza per vedere se la tua è solo modestia, no? Prendi la Unigun Cosi V2. Iniziamo con un giro rilassato della regione. Non registrerò ancora la telemetria. Non c'è fretta. Credevo fosse Horizon Rush. Hai ragione. Nuovo piano, telemetria attiva e accelera! Andiamo via da Los Jardines. Dirigiti a nord verso Copper Canyon. Vivremo un'avventura! Tra 200 metri, gira a sinistra. Gira a sinistra. Tra 200 metri, gira a destra. Gira a destra. Tra 200 metri, gira a sinistra. Gira a sinistra. Tra 200 metri, gira a destra. Gira a destra. Diamo il benvenuto a Valle de la Sranas. La geologia è affascinante. Scommetto che non hai mai visto rocce come queste prima d'ora. tra 400 metri... Tra 400 metri, gira a sinistra. Gira a destra. Tra 200 metri, gira a sinistra. Tra 400 metri, gira a sinistra. Gira a sinistra. Gira a sinistra. Tra 400 metri, gira a sinistra. Prenderemo i tornanti per scendere nel Copper Canyon. Appena possibile, fare invenzione a 1. 300 metri, gira a sinistra. La prossima volta potremmo prendere la funivia. Vista migliore, ma meno derapante. Appena possibile, fare invenzione a 1. Vedi i binari del treno? Corre lungo tutto il canyon. È popolare tra i turisti e tra i piloti di esibizione Horizon, a quanto pare. Il treno è più veloce di quanto pensi. Tra 400 metri, gira a sinistra. Gira a sinistra. Gira a sinistra. Gira a sinistra. Ottimo! Ora che conosci la regione, possiamo ottenere una migliore telemetria. Chiamerò Jamie nella Universidad. Mi farò sentire presto. Vedi, ho tutta questa attrezzatura per condurre indagini geografiche, ma... Potremmo usarla altrettanto facilmente per fare video acrobatici, no? Ottimo consiglio. Grazie. Dopotutto sono uno scienziato. Andiamo. Ho ideato un piccolo percorso sulla montagna, contornanti e... Salti vertiginosi. È ora di scendere. Tieniti alle strade per le drapate o prendi una scorciatoia per qualche salto. Rileverò dati lungo il percorso. Tu preoccupati soltanto delle catene abilità per Jamie. È ora di volare! Sì, la ricerca indica che i fan di Corsa Horizon amano le drapate. Stiamo rompendo di tutto! Ma è per la scienza! Sto mandando quella catena abilità al Dipartimento di Matematica. Sto mandando la macchina. Volta qui a destra! A tutta velocità! Secondo la telemetria, ti piace molto distruggere oggetti! Ok, è ora di tornare indietro! Non so, non so, non so, non so, non so! Non so, non so, non so, non so, non so! Non so, non so, non so, non so, non so, non so! Ok, abbiamo un bel po' di dati grezzi da caricare sul server di ricerca della Universidad Che mi dici di Jaymin? Quale formato pensi che preferirebbe? Jay? Basta pubblicare un video e taggarlo! Un secondo! Ho un'idea! Cosa stai... Oh, sì! Mi piace questa teoria! Mercedes AMG One! Più di mille cavalli! Che ne pensi? Penso che l'Università dovrebbe misurarmi la frequenza cardiaca in questo esatto momento! Anche la mia! Ti do il benvenuto a Corsa Horizon! Siamo pronti? Non ho idea di cosa abbia detto Jay a mia cugina Ale per far uscire questo gioiellino dall'autosalone Probabilmente le ha detto che era per la scienza, no? Per la scienza! Ora vai al segnale di pericolo! E' stato davvero folle, fantastico! La cosa più bella che abbia mai... Voglio dire, l'esperimento è ora completo Immagino che la scienza faccia buona pubblicità Immagino che la scienza faccia buona pubblicità Immagino che i sistemi sul cittadino Immagino che la scienza faccia buona pubblicità E' stato davvero un'opportunità Ma spiegata che la scienza faccia buona pubblicità Non spiegata! Impostante! Grazie a tutti.